Ecco, è arrivato il primo, sono mezze maniche alla matriciana. Non c'è le mezze maniche. Sì, è mezzo in un po' il dialetto. Niente le mezze maniche qui, è tra i barai. Ecco, come si chiama sta pasta? E il tipo di pasta com'è? Le mezze maniche? Tu lo conosci? Ci dice le mezze maniche dalle tue parti? Eh, si vede. Buon appetito! Buon appetito! Sono le maniche corte. Eh, maniche corte. Bucazzarello si mette? No, no, no. Ecco, ecco qua. Ecco il nostro segretario, il nostro segretario del Comune di Sì. Ecco il Presidente, un applauso al Presidente. Un applauso al Presidente. Buon appetito ragazzi. Concludo, riprendo la ripresa più tardi, se no qualcuno rimane scontento. Maiaunica! Fa glia! Maiaunica! Maiaunica! Fermi